Settima giornata nel girone A di Serie D, dopo il bel punto di mercoledì contro il Varese, l'oltrepo si presenta a chi è ricarico d'entusiasmo e desideroso di cercare la prima vittoria in campionato. E stavolta i biancorossi partono decisamente forte, rimessa laterale, pallone per Cavallotti che vince un contrasto e fa partire un mancino chirurgico sul quale si distende Faccioli che però non ci arriva. Gol bellissimo del numero 8 dell'oltrepo che giustamente si prende la scena visto che al decimo minuto la sua squadra è già in vantaggio. Prova subito però a replicare il Chieri, palla dentro sulla quale interviene un po' goffamente costante, i piemontesi chiedono un rigore ma l'arbitro fa giocare. Dall'altra parte più insidioso l'oltrepo, bella verticalizzazione per Soldi, palla dentro sulla quale però Chrome non riesce a girare in rete, l'azione non finisce perché Spatari la tiene viva, palla dentro dalla sinistra per quello che a tutti gli effetti un tiro cross ma Soldi non può arrivare sul pallone. A metà frazione il Chieri è l'occasionissima per pareggiare, palla dentro per Jabbar che forse se la porta avanti con un braccio, poi sicuramente viene steso da Fossati in area, calcio di rigore in favore dei padroni di casa dal dischetto si presenta Ferrara ma Fossati, ipnotizza l'attaccante ed è monumentale ricordando le parate fatte in coppa contro la Vogherese. Oltrepo avanti sempre una 0 che prova a tornare in attacco, bella azione per portare al tiro Cavallotti, conclusione murata dalla difesa. Ancora oltrepo punizione di De Rinaldi per la testa di soldi, vola Faccioli a togliere il pallone dallo specchio della porta con semenza che poi non riesce a concludere. Sempre Cavallotti il protagonista in caso oltrepo, in questo caso il numero 8 prova il tiro che va sull'esterno della rete. Sul finire di primo tempo ci prova anche De Rinaldi, palla però ampiamente a lato sul tentativo da lontano del numero 10 ma è comunque il preludio al secondo gol che arriva al minuto 44. Ripartenza biancorossa, fa tutto De Rinaldi che col destro non dà scampo a Faccioli con questo tiro che si insacca in porta segnando un gol bello e importante nell'economia del match 0-2 meritato per quanto visto nel primo tempo e oltrepo che dopo l'esultanza ha un'altra grande occasione per segnare palla lunga ancora cercando lo scatto di Hrom ma il suo diagonale è parato dalla portiera del Chieri mentre dall'altra parte una punizione messa in mezzo crea Grattacapi con Diop che non riesce ad intervenire. Con le immagini nella ripresa dopo 11 minuti il Chieri riapre la partita, azione sulla sinistra, palla messa dentro per la girata di Ferrara che si fa perdonare così il rigore sbagliato col gol che dà speranza ai piemontesi ma in realtà l'oltrepo torna ad attaccare e vuole chiuderla di nuovo. Bella palla di Carrère per Hrom ma Faccioli attento in uscita poi sul proseguo della stessa azione Faccioli ancora super su Hrom che aveva rubato bene palla a un avversario. La sfera tornerà poi sui piedi del numero 90 che stavolta sceglie il tiro a giro il pallone però va a lato da buona posizione. Torna a farsi pericoloso il Chieri nel finale con la girata di Diop direttamente poi da rimessa laterale sul quale il Chieri reclama anche un fallo di mano poi la ripartenza invece di Spatari gestita dal numero 15 che però non serve i compagni e spara alto. Arriva poi il colpo di testa di Jabbar anche in questo caso alto di un nulla l'oltrepo tira un sospiro di sollievo ed esulta per la prima vittoria in Serie D.